Se ti accontenti del divano, parta per me e puoi rimanere quanto vuoi. Grazie, ma domani mattina parto. Oh mio Dio, che tragedia. Non casca mica il mondo se ti hanno cacciato alla scuola, no? Sono Susi Banner. Benvenuta nella nostra accademia. Ragazze, vi presento Susi Banner, la nuova allieva. Che cosa vuoi che me ne importi di essere espulsa? E allora? È inutile che tenti di spiegarti. Non mi crederesti. Tutto sembra così fantastico. È così assurdo. Non mi resta altro da fare che fuggire. Un sacco di strani, incredibili e assurdi avvenimenti. Fate le nottavo già da qualche mese. E prima di andare via, di dati a me questi appunti, ti faccio leggere tutto questa sera. È la chiave che ci consente di sapere dove vanno le insegnanti ogni notte. Susi, tu sei niente di streghe. Cosa fanno le streghe? Il male. Nient'altro al di fuori di quello. Cercavi Sara? È sparita. Ha preso armi, bagaglie e via. Ma è impossibile. E che io li incontri nei morti. E i morti i vivi. E che io rimango! E che io lo so. Cosa che posso trasferire tutto questo? E io? Cosa che cosa è? Cosa che è un uo! 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 Grazie a tutti